In Val Chiavenna i lupi arrivano fino in paese. È l'allarme lanciato da Michele Corti, portavoce del Comitato per la tutela delle persone e degli animali dal lupo. A Casenda, frazione di Samolaco, si registra da sabato scorso la presenza di lupi che attaccano o tentano di attaccare gli animali al pascolo in recinti a fianco dell'azienda Ciocca. Fa sapere Corti, nella notte tra sabato e domenica, due asini dei 14 custoditi in un recinto sono stati sbranati dai predatori. Sine dalla serata di sabato, le vacche da carne di Ratzangus, custodite insieme ai vitelli in un recinto adiacente a quello degli asini, avevano iniziato a muggire in modo anomalo. Alla mattina di domenica, l'allevatore Diego Ciocca ha trovato la carcassa di un primo asino, notando anche che il recinto delle vacche era stato divelto dagli animali in predalpanico, prosegue Corti. A 10 metri di distanza è stata poi ritrovata la seconda carcassa. La prima di un maschio era stata sventrata, la seconda di una femmina risultava parzialmente consumata. Allertata la polizia provinciale è intervenuta per gli accertamenti di rito. L'aspetto inquietante di questo episodio, sottolinea Corti, è che nella giornata di lunedì in pieno giorno, osservando da casa con il binocolo, i Ciocca hanno scorto un canide che attraversava il recinto delle vacche fattrici. Dopo un quarto d'ora gli animali sono fuggiti fuori dal recinto due vitelli, sono finiti sulla strada comunale e hanno dovuto essere recuperati. Si teme che i lupi siano ancora nei paraggi, probabilmente sperando di consumare gli animali predati, indica Corti. Segnaliamo inoltre che a Samolaco, nella frazione di Nogaredo, è sparita una capra che era mantenuta in un recinto nella giornata di lunedì. Come comitato continuiamo a chiedere il controllo dei lupi a tutela dell'incolumità pubblica.